Rieccoci alle elezioni in presenza, ma i problemi della scuola non sono di certo risolti. Questa mattina a Pescara, dopo la manifestazione del 26 gennaio all'Aquila, un manipolo di studenti delle scuole superiori si è radunato in presidio davanti alla regione, nonostante il maltempo. In questi mesi di chiusura, infatti, sono mancati da parte di governo e regione investimenti significativi sull'istruzione, in primis per quanto riguarda trasporto pubblico ed edilizia scolastica. Questi due temi, il primo rispetto all'andare e tornare da scuola, il secondo rispetto a spazi adeguati dove fare lezione, sono di fondamentale importanza per lo svolgimento della didattica in sicurezza, in quest'anno segnato dal Covid. Le nostre richieste sono rimaste inascoltate ad oggi. A quelle che abbiamo avanzato a gennaio, che principalmente riguardavano il sistema dei trasporti, non c'è stata risposta e allora abbiamo ben pensato, insieme ad altri collettivi, quello di Lanciano e quello dell'Aquila, di avanzare una serie di nuove proposte riguardanti il diritto allo studio e quindi anche declinate toccando vari aspetti dell'istruzione, vale a dire l'edilizia scolastica, nuovamente il sistema dei trasporti e una riflessione più ampia sulla didattica, con la speranza di sottoporla all'opinione pubblica, all'attenzione dell'opinione pubblica, degli studenti tutti e soprattutto delle istituzioni, uniche e realmente competenti nella risoluzione di queste problematiche, seppure assanti, quantomeno per quanto riguarda la maggioranza. Abbiamo chiesto un tavolo, ma la giunta non ci ha risposto, dicono gli studenti, di cui una delegazione è stata accolta da alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico, i quali hanno promesso di sollicitare a tal proposito la maggioranza. Nonostante da parte dell'associazione sia arrivata una PEC indirizzata sia a Marsilio che ad Annunzi sia a Sospiri, una PEC tra l'altro inviata per tempo, quindi utile ad una risposta da parte delle forze di maggioranza, questa risposta non c'è stata, stiamo ancora attendendo, mi fatto dubbio che si presenteranno oggi in piazza, è l'ennesima riprova di come un dialogo sia diventato per lo più unilaterale, quindi inesistente. Per venerdì intanto, studenti attesi nuovamente in piazza a Lanciano, con l'intento di riportare la scuola al centro del dibattito politico.